Buongiorno e benvenuti. Oggi siamo nel quartiere di Margine Rosso, nel comune di Quarto Sant'Elena, una delle località più ambite della costa del sud Sardegna. Siamo a pochi chilometri da Cagliari, vicinissimi all'aeroporto di Elmas, a pochi chilometri dal porto turistico e dall'autorità portuale di Cagliari. La location è unica nel suo genere, in quanto parliamo di una lottizzazione molto grande, dove sono presenti delle ville molto importanti. Blue Wave, il progetto che oggi vi presenterò, è la replica di un altro progetto che abbiamo fatto molto simile nella zona e che ha avuto molto successo. La villa è una villa completamente indipendente, con piscina, dotata di tutti i comfort e costruita con le ultime tecnologie e innovazioni presenti nel mercato dell'edilizia. Vi porto all'interno per farvi visitare l'abitazione. Benvenuti all'interno dell'unità abitativa. Come vedete siamo all'interno dell'area living, la casa ha degli ampi spazi con delle vedute esterne, classiche comunque delle nostre abitazioni. La linea dell'arredamento, come vedete, molto asciutta, molto pulita, molto lineare, replica assolutamente quelli che sono gli standard moderni dell'arredamento che comunque proponiamo in tutte le nostre unità abitative. Vi porto nella cucina per farvi vedere come abbiamo organizzato gli spazi. Come vi dicevo in precedenza, gli spazi sono molto ampi. Infatti, come vedete, anche la zona cucina e la zona pranzo hanno degli spazi molto grandi che si affacciano sempre sull'esterno e con una vista mare pazzesca. Tutti questi spazi che voi vedete comunque possono essere modulati e invertiti a seconda dell'esigenza del cliente. Adesso vi porto all'interno della zona notte dove vi faccio visitare la camera padronale. Benvenuti nella camera padronale. Come vedete anche qua gli spazi sono molto ampi. Alle mie spalle trovo spazio il bagno che è dedicato in esclusiva alla camera. Alla mia sinistra una cabina armadio molto ampia ad ospitare tutti gli effetti personali della coppia. E come tutte le nostre stanze di tutta la villa che proponiamo oggi, un'ampia vista sul poetto. Adesso vi accompagno all'esterno per farvi visitare meglio gli spazi della casa. Benvenuti nello spazio esterno dell'abitazione. Come potete vedere, la casa, come vi dicevo prima, è suddivisa su due livelli. Il design moderno e contemporaneo in una location come Margine Rosso a mio avviso sono unici. La piscina è già prevista nell'impianto di riscaldamento dell'acqua per essere utilizzata anche nei periodi con temperature leggermente più basse. Gli spazi della piscina lo stesso sono molto grandi ma anche lo spazio conviviale esterno dove trova spazio il tavolo, la parte del barbecue, la parte del prendisole della piscina e comunque la casa può essere modulata a secondo le vostre esigenze. Abbiamo la possibilità di aggiungere il piano seminterrato, dovrei creare dei box, uno spazio cinema, una lavanderia. Quindi siamo in tempo oggi per modulare e per progettare questa casa secondo i vostri desideri. Quindi un progetto proprio tailor made che vi possa garantire la massima usufruibilità degli spazi. Il giardino è di circa 700 metri quadri sia nell'817 che nell'853. Adesso però è arrivato il momento più importante. Ho un regalo per voi. Spero che il piccolo regalo che vi ho fatto sia stato di vostro gradimento. Quindi una visione di quello che è il tramonto dalla casa e di una vista sul poeto alla sera non sono di poco conto. Come vedete la casa comunque ha anche un bello studio di luminotecnica. Le luci di notte esaltano quella che è la caratteristica architettonica e il design che contraddistinguono la lottizzazione Blue Wave. Un progetto in cui noi crediamo tanto e su cui daremo un forte sviluppo nei prossimi anni. È stato un piacere che comunque mi avete accompagnato anche durante questa presentazione di questa casa e spero di vedervi presto in Sardegna. Grazie.